T-Quick VIP, benvenuti a questa nuova trasmissione che vuole dare voce ai personaggi più rappresentativi della nostra economia, della nostra politica, della nostra cultura, della nostra società. Andiamo oggi a inaugurarla con un ospite particolare, abbiamo il piacere di avere con noi l'europarlamentare Sergio Berlato. Benvenuto parlamentare. Grazie, grazie mille. Allora, lei è spesso in Europa, appunto la sua attività la porta in Europa e riesce a vedere così la differenza che c'è rispetto alla situazione italiana, soprattutto per quanto riguarda l'economia. L'Italia sta vivendo un periodo difficile, ma penso sia una situazione comunque generalizzata anche a livello europeo, è così grave la crisi anche negli altri paesi, o siamo solo noi così in difficoltà? Io appunto da deputato del Parlamento europeo debbo purtroppo constatare che questa situazione economica che sta mordendo il nostro paese sotto profilo economico ed occupazionario è una situazione purtroppo comune a molti altri paesi dell'Unione Europea. Basta pensare a ciò che sta accadendo in Spagna, in Portogallo, in Francia e in molti altri paesi. Questo non significa mai il comune mezzo gaudio, significa unicamente capire che la situazione difficile che stiamo attraversando in Italia è una situazione dovuta a un contesto che va ben oltre i confini nazionali. E negli altri paesi la stanno affrontando come da noi, la stanno affrontando in modo migliore, peggiore? Possiamo prendere esempio da qualcuno? Sì, la stanno affrontando in modo più tempestivo ed è quello che dovremmo fare anche noi in Italia. In effetti qui in Italia stiamo perdendo del tempo e bisogna affrontare con grande determinazione e di immediatezza i problemi che riguardano il nostro paese, soprattutto sotto profilo economico, con riflessi occupazionali altrettanto gravi. Purtroppo gli indicatori a livello europeo ci portano a constatare che la situazione non migliorerà per tutto il 2013 e una parte del 2014. Cosa significa questo? L'imperativo è resistere. Ma come possiamo pensare che qualcuno rimanga ancora in vita per un anno e mezzo senza poter respirare? Bisogna far respirare la nostra economia partendo dalle nostre imprese e dalle nostre famiglie, attivando una serie di iniziative che possono dare ossigeno alle nostre imprese e alle nostre famiglie. In Europa abbiamo approvato, oramai quasi due anni fa, abbiamo approvato un'importantissima direttiva, che è la direttiva contro il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione e anche tra privati. Se ne è parlato proprio nelle ultime settimane, fra l'altro anche in Italia si è introdotto qualcosa del genere? Credo che questa direttiva da sola valga una legislatura per la sua importanza. Questa direttiva dovrà essere applicata in tutti gli Stati membri, compresa l'Italia e questa direttiva prevede che le pubbliche amministrazioni debbano pagare i loro fornitori entro un termine massimo di 30 giorni. In casi eccezionali il termine è espostato a 60 giorni, considerando che mediamente attualmente la pubblica amministrazione paga i propri fornitori con una tempistica media che va dall'anno e mezzo a due anni e mezzo, capite bene che la differenza è notevole. Purtroppo nel nostro paese un'azienda su quattro, oramai un'azienda su tre, fallisce non perché non ha lavoro, ma perché ha lavorato, ma nonostante abbia lavorato ed abbia anticipato i soldi per pagare a sua volta i propri fornitori, non viene pagato dalla pubblica amministrazione. Questo fa fallire una quantità enorme di imprese, diventa quindi fondamentale che venga applicata anche in Italia questa direttiva stravolgendo completamente le tempistiche per quanto riguarda il pagamento dei fornitori. Questo cosa significa? Significa non fare morire le imprese e di conseguenza non far perdere posti di lavoro a tantissime persone che si ritrovano magari a 50 anni a non avere la possibilità di poter essere reinserite nel mondo del lavoro con tutte le difficoltà che possiamo tutti noi non solo immaginare ma constatare nei nostri giorni. Il lavoro in effetti è una delle preoccupazioni principali in questo periodo, come diceva giustamente non solamente per i giovani che non riescono ad inserirsi ma spesso anche per le persone di una certa età, comunque giovani ma non ancora adatti per la pensione e che non riescono a riconvertirsi, a ricollocarsi dopo aver perso il proprio lavoro. Quali altri strumenti si potrebbero attivare per aiutarli? Questo è il dramma, un passaggio importante, un ragazzo che magari finita la preparazione scolastica chiede di poter entrare nel mondo del lavoro e non ci riesce per questa congiuntura economica è una cosa molto grave, però se questo ragazzo vive in famiglia con i genitori che lavorano in qualche modo la questione è temporaneamente superabile. Quello che è drammatico, molto più drammatico è il fatto di vedere delle persone, dei capi famiglia che a 50 anni perdono il posto di lavoro perché l'azienda dove lavoravano è fallita o ha chiuso, i battenti, a 50 anni pensare di poter essere inserito nel mondo del lavoro è una cosa molto difficile. Lì è il dramma di un capo famiglia che ha famiglia a sue spalle, magari un mutuo da pagare ai figli ai quali dover dare delle risposte. E quindi sono situazioni drammatiche che non possono essere ulteriormente tollerate nel nostro paese e devono trovare una rapidissima soluzione. Ma la politica che cosa può fare proprio allora per queste persone, per che tipo di interventi, che tipo di strumenti si potrebbero attivare per dare un aiuto concreto, come diceva? Allora, innanzitutto bisogna capire che per uscire da questa crisi ognuno deve fare bene il suo mestiere, ognuno ha un suo compito indipendentemente dal ruolo che ricopre nella società. La politica deve dare l'esempio, quindi fare in modo che i partiti tutti, nessuno escluso, capiscano che prima di privilegiare le loro alchimie politiche con azioni di attendismo o la speranza di trovare un vantaggio per questa o quella forza politica, devono capire l'indispensabilità di fare tutti il quadrato per salvare il paese. Parlevamo la settimana scorsa anche nel nostro telegiornale, c'è grande preoccupazione, appunto si sapeva, ma addirittura i risultati di un sondaggio dicono che 5 imprese su 6 temono di fallire entro l'anno, non sarà così per tutte, ci lavoriamo e sicuramente certo non sarà così, però ecco la preoccupazione c'è, quindi è pesante. Che cosa possiamo dire agli imprenditori, quindi che messaggio lanciare loro? Possiamo dire agli imprenditori di prima di tutto di tenere duro delle serie, a resistere in questa fase è l'obiettivo principale, dopodiché le istituzioni devono fornire però delle prospettive alle nostre imprese e non possono le nostre imprese affrontare da sole questa grave crisi. Bisogna fare in modo da sburocratizzare il più possibile tutte quante le iniziative che vengono assunte a livello pubblico, creare le condizioni perché l'ente pubblico non sia un ostacolo in più da superare da parte di imprenditori, l'ente pubblico deve tornare al servizio dei cittadini, creando le condizioni perché chi vuole intraprendere si è messo nelle condizioni di poterlo fare, si è pur nel calcolo del rischio di impresa, ma si è agevolato nella sua volontà di intraprendere, creando poi le condizioni perché si capisce in modo molto chiaro e inequivocabile che quando si parla della necessità di reperire risorse per dare risposte alle imprese e alle famiglie, il primo modo per reperire risorse è quello di tagliare gli sprechi che sono abbondantissimi nella pubblica amministrazione, ciò non significa semplicemente e doverosamente tagliare il costo della politica, ma bisogna tagliare il costo anche di tutto un apparato burocratico che grava in maniera insostenibile sulle spalle delle imprese e sulle spalle delle famiglie. Proprio di famiglie infatti vorrei parlare per concludere questa nostra puntata perché è vero c'è preoccupazione tra gli imprenditori, ma ce n'è molta anche nelle famiglie che non riescono ad arrivare alla fine del mese, i soldi non bastano, gli stipendi o non ci sono perché dicevamo prima è stato perso il lavoro, sono troppo ridotti rispetto alle necessità, che prospettive possiamo dare alle famiglie e che messaggio per le famiglie? L'intervento che deve essere fatto subito è quello mirante a ridurre il costo del lavoro perché l'imprenditore deve sostenere un costo altissimo per quanto riguarda il rapporto di collaborazione con il suo dipendente, ma di questo costo solamente una piccola parte va in tasca al lavoratore e una parte consistente invece rappresenta un costo oramai insostenibile sia per l'imprenditore e un vantaggio sempre più limitato per il lavoratore. Dobbiamo creare le condizioni perché si riesca a ridurre notevolmente il costo del lavoro e offrire prospettive alle nostre famiglie, in che modo? Riuscendo a favorire innanzitutto la valorizzazione delle professionalità che escono anche dal mondo della formazione creare le condizioni perché le poche risorse disponibili non siano sprecate e vengono utilizzate in maniera mirata a favore di chi vuole continuare a far crescere il nostro paese e lo vuole accompagnare fuori da questo periodo di grave crisi economica. La politica, ultima cosa, riuscirà a diminuire la tassazione che grava oggi sulle famiglie, sulle imprese, che quindi limita lo sviluppo e alimenta questa crisi? O le forze politiche tutte capiscono l'indispensabilità di cambiare registro e di riuscire a privilegiare il bene dei cittadini o altrimenti saranno i cittadini a mandare a casa le forze politiche, salgano loro? E quindi staremo a vedere che cosa sceglieranno i cittadini, e noi intanto ringraziamo l'Europarlamentare Sergio Berlato che è stato con noi per inaugurare questa nuova trasmissione, quindi grazie dottor Berlato. Grazie a voi per la squisita ospitalità. Bene, e a tutti voi diamo appuntamento quindi alla prossima puntata di TQIC VIP. Grazie per averci seguito e a presto.